Musica Eccoci qua cari telespettatori, come ogni venerdì abbiamo la nostra puntata con lo spiccigelle del Veneto. Il titolo della puntata odierna è campagna vaccinale, si ha i vaccini e in modo particolare coinvolte sono le persone anziane che sono le più fragili per le quali ci deve essere tantissima attenzione, tutti coloro che si occupano di queste persone. Allora per parlare di questo ma anche affrontare altre questioni molto importanti, poi un sondaggio che è stato fatto anche proprio presso gli anziani, abbiamo come sempre qui con lo spiccigelle Elena Di Gregorio, segretaria generale, ben ritornata qui in studio, ci fa piacere che così ci dà una vision completa della situazione. Grazie, buongiorno a tutti. Allora segretaria, lei è supportata questa volta da remoto, poi lo avremo anche in studio appena sarà possibile, Vigilio Biscaro, ben arrivato qui con noi e anche complimenti per il nuovo incarico perché il nuovo segretario generale di spiccigelle di Treviso, ben arrivato. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti gli altri discorsi che soneguiranno. È relativo ai vaccini? Sì, come spiccigelle abbiamo pensato con l'avvio della campagna vaccinale di sondare qual era l'orientamento delle persone che noi rappresentiamo, quindi le pensionate e i pensionati del Veneto, la popolazione anziana. Quindi abbiamo fatto un velocissimo e semplice questionario online che ha ricevuto in pochi giorni veramente una risposta incredibile perché 2.200 risposte e quindi segno dell'attenzione che c'è su un tema di questo tipo. E poi nel merito delle domande che erano molto semplici, la risposta proprio principale che è quella sull'intenzione di vaccinarsi, abbiamo riscontrato che il 91% delle pensionate e pensionati che hanno risposto al questionario dichiarano la volontà di vaccinarsi. Ecco, chi è della regia se ci metti non della slide relative proprio a intenzione di vaccinarsi, questa è stata la domanda molto semplice, vediamo la percentuale che consente, quella che dice sì ho intenzione di farlo è verde e invece non so gialla, quindi sono delle perplessità, no è bassissima e quella segnata in azzurro. Quindi siete rimasti sorpresi? No, infatti siamo rimasti molto non sorpresi perché appunto è anche il nostro pensiero quindi in perfetta sintonia con il sentire degli anziani e è una conferma di una consapevolezza che c'è nella popolazione anziana che ha una storia alle spalle, che ha un'esperienza, che ha un senso di responsabilità molto forte. E il vaccino rappresenta per gli anziani uno strumento di tutela per se stessi ma anche insomma la possibilità e lo strumento per riuscire a sconfiggere la pandemia. Quindi questa consapevolezza forte è emersa dai dati perché c'è una quota minimale, sono 6% di indecisi e solo un 3% di contrari e sia gli indecisi che i contrari prevalentemente ne derivano da una scarsa informazione. E questo è un altro tema che ci interessa su quale abbiamo parlato anche con la regione Veneto quando abbiamo avuto l'occasione di incontrare l'assessora Lanzarin perché noi pensiamo appunto che debba essere fatta una campagna molto diffusa, molto forte, molto attenta di informazione sui vaccini. Perché è necessario ed è un diritto dei cittadini una scelta consapevole rispetto alla propria salute in questa occasione come in altre. Quindi c'è una forte attenzione, una forte disponibilità e urgenza. Certo, poi avete interpellato con un questionario online, quindi un certo tipo di pensionati più evoluti, magari quelli che online non lo usano ma ancora i tradizionali cellulari, ce ne sono molti che sono gli over 80 che peraltro ci seguono moltissimo, quindi li salutiamo. Come riuscite comunque a intercettarli anche con le informazioni? Premessa, c'è anche sempre la vostra rivista Liberetà che è un modo anche per invitare a iscrivervi, abbonarsi perché costa un euro al mese, è completa e parla anche di questi temi, tantissimi altri temi di attualità, per cui questo potrebbe essere un po' un'occasione per essere aggiornati per chi non è online, insomma. No, certo, noi utilizziamo tutti gli strumenti, quindi sia quello cartaceo, come ricordava la rivista Liberetà, che è bella proprio, è piacere da leggere, è ricca di informazioni, scritta per essere letta anche da persone anziane, quindi scritta in grande, scritta in maniera molto chiara ed è veramente una fonte di informazione molto preziosa e anche uno strumento di compagnia. Sappiamo soprattutto in questi mesi di pandemia quanto si cerchi di stare a casa giustamente, responsabilmente, quindi quanto ci sia bisogno anche di passare il tempo e Liberetà, insomma, è una buona compagnia. Poi noi siamo presenti comunque nelle nostre sedi con tutte le precauzioni, le sicurezze, perché chi presta la consulenza, l'attività, chi fa volontariato con lo SPI sono pensionati, quindi sono persone comunque di una certa età, ma che lo fanno come missione perché sanno quanto è importante anche da un servizio di assistenza. E poi abbiamo i nostri numeri telefonici e riceviamo veramente tantissime telefonate, per cui abbiamo fatto quel questionario sui vaccini, perché eravamo già tempestati di telefonate di persone che ci chiedevano quando arriva il vaccino, quando avrò la possibilità di essere vaccinato. E come farò ad essere contattato? Questa è l'altra questione che tanti anziani... Noi abbiamo chiesto all'incontro con l'assessore Lanzarini, proprio per avere delle informazioni sulla campagna vaccinale. Abbiamo avuto questo incontro il 5 gennaio. Quindi recentissimo praticamente. Sì, con la campagna appena avviata. Ricordiamo che secondo le indicazioni del Ministero della Salute, i primi vaccinati sono gli operatori sociosanitari, quindi chi opera negli ospedali, medici, infermieri e assistenti, e lo stesso il personale delle case di riposo e gli ospiti delle case di riposo. Quindi ci sono delle classi di priorità. Queste sono le prime persone che vengono vaccinate. La campagna di vaccinazione in tutto il paese è partita bene. Ieri abbiamo avuto la notizia che siamo i primi in Europa come percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione. Quindi questo ci inorgoglisce. È partita anche in Veneto. Sta procedendo bene nelle case di riposo. La regione ci garantisce che per metà febbraio sarà completata la seconda somministrazione di vaccino nelle case di riposo. Infatti questo è l'altro spettacolo importante. Nel frattempo, già in questi giorni, dovrebbero partire da parte delle USL le lettere agli over 80 anni che sono a casa per l'appuntamento per la somministrazione del vaccino. Noi abbiamo chiesto informazioni alla regione rispetto a come intende tutelare e garantire la vaccinazione alle persone non autosufficienti e ai tanti anziani che comunque non hanno la possibilità o l'autonomia per muoversi, per raggiungere i presidi per la vaccinazione. C'è stato garantito che stanno poi disponendo dei piani e che la vaccinazione verrà fatta a domicilio. Però questo è solo in casi particolari perché due persone anziane mi hanno firmato proprio l'altro giorno sapendo che mi rivolgo sempre a voi al sindacato. Parli col sindacato perché noi non, prima uno e un altro, la sostanza buona era questa. Non ho la macchina, non ho chi mi possa accompagnare. Io al di là di arrivare dal medico, dal mio medico, oltre non vado e non vado neanche a messa, neanche in chiesa. Quindi come farò ad essere vaccinato? Chi si occupa di me per questo? Quindi sono persone fragili, anziane, però anche sole. E vi seguono anche molto. Per cui dicono cosa faccio? Ma mai che vada chiamata il sindacato perché c'è l'Auser se non sbaglio. Ci sono dei servizi che possono anche accompagnare forse? Ci sono le associazioni di volontariato, l'Auser, la nostra associazione di volontariato, che già fornisce, ce ne sono altre, che operano in questo campo e fanno un lavoro egregio perché veramente ce n'è bisogno, soprattutto in questa stagione, che accompagnano gli anziani che non hanno la possibilità di muoversi, che non hanno appunto l'automobile, li accompagnano per le visite mediche. Quindi sicuramente verrà messo a disposizione anche un servizio più curato per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, e quindi la possibilità di accompagnare gli anziani a farsi il vaccino. Però noi insistiamo sul fatto che appunto la Regione si è impegnata in ogni caso per garantire il servizio a domicilio. Ricordiamoci che il Governo ha stanziato le risorse per la costituzione delle USCA, queste unità speciali che devono proprio funzionare per garantire l'assistenza a domicilio durante il Covid. Purtroppo sappiamo che in Benetton ne sono state costituite poco più della metà, quindi siamo ancora indietro, non sono sufficienti a svolgere questo grandissimo lavoro che deve essere fatto per curare a casa, perché l'obiettivo è quello di evitare che le persone vadano in ospedale, anche quando sono contagiate, quindi il curare il più possibile a casa. Purtroppo facciamo i conti con una carenza di personale, che è diciamo antecedente all'emergenza Covid, in particolar modo nelle case di riposo, ma che con il Covid è esplosa, perché poi sappiamo che molti operatori si sono contagiati. E quindi questo ha appesantito ancora la situazione e la qualità del servizio che era possibile, delle prestazioni che era possibile erogare nelle case di riposo. E anche il tema dell'assistenza e della cura. Gli anziani nei case di riposo sono molto soli, soffrono molto, soprattutto in questi mesi in cui non c'è la possibilità di un rapporto ravvicinato con i propri familiari. Questo è un dramma che ci accompagna ogni giorno. Noi ci abbiamo telefonate tantissime dai familiari che non hanno, o perché scasseggiano le notizie, o comunque non hanno la possibilità di vedere i propri cari, e quindi di avere una conferma anche delle loro condizioni di salute, ma anche di fargli sentire la vicinanza. Sappiamo, insomma, ma lo ha scritto anche il Ministero della Salute, quanto sia importante la condizione psicofisica per la sopravvivenza degli anziani. Se si sentono abbandonati, questo senso di abbandono colpisce, non dico tanto quanto il virus, ma incide pesantemente anche sulla loro salute. Entro un attimo, abbiamo una telefonata in attesa, poi è arrivato un messaggio che diceva se mi vaccino e anche faccio il richiamo posso circolare liberamente, dubito. La risposta è dubito. Comunque magari ci saranno dei dpcm che diranno cosa fare. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno. Da dove chiama? Chiamo da Ponte Longo. Ponte Longo, perfetto, ci dica tutto. Allora, io vorrei vaccinarmi perché io dal 28 febbraio al 23 marzo mi sono fatto quasi un mese di ospedale. Però dalle ultime informazioni che si sentono, io andrò a vaccinarmi quando tutti sono vaccinati. ma io in questo periodo di tempo devo sempre vivere con un po' di ansia perché ho sempre paura che la malattia mi venga di nuovo, ma capito? Volevo sentire la risposta a questo quesito, insomma. Certo. Scusi, lei quanti anni ha? 74. Allora, è meno di 80, ma intanto complimenti comunque anche per essere uscito da aver superato questa patologia e per essere l'età che è ancora giovane. Sì, siamo sicuro. Ma ho preso una schiopettata, cara. No, immagino. Comunque l'importante è che adesso lei stia bene e stia comunque attento. Segretaria, se vuole rispondere a lei. Grazie molto della telefonata. Grazie. Grazie. Allora, per quanto riguarda il personale che è nelle case di riposo, l'assessora ci ha confermato che vengono vaccinati tutti, anche chi ha già contratto in precedenza, nei mesi precedenti, il virus. L'importante è che non sia in corso nel momento del vaccino. Quindi vengono esclusi solamente quelli che hanno la patologia in quel frangente. Il signore credo che però sia fuori. Il signore sta fuori, però il signore è giovane perché ha 74 anni e la campagna di vaccinazioni che parte adesso, diciamo, per le quali arrivano le usle, mandano le lettere agli anziani, riguarderà gli over 80 anni. Che per fortuna loro sono anche tanti. Sono più, sono 360 mila, poi ovviamente bisogna togliere quelli che sono dentro le case di riposo, però sono un numero molto consistente. Verrà fatto per classi di età, inizialmente io sono molto contenta perché ho due genitori anziani e quindi sono contenta che a breve abbiano la possibilità di essere vaccinati perché appunto hanno più di 90 anni, quindi sono situazioni, e così come verranno vaccinati anche prioritariamente i malati oncologici. Quindi stiamo parlando di fasce di età con una età molto elevata, quindi soggetti molto a rischio o con patologie molto serie. Invece il settantenne? A scalare poi si arriverà alle altre fasce di età. Da quello che sappiamo il Ministero ha dato indicazione di dare precedenza a chi non ha contratto il virus. La nostra regione dovrà dirci come intende procedere rispetto a chi ha casa, come il signore che giustamente è preoccupato. Però ricordiamoci che non abbiamo dalla parte della scienza in questo momento delle indicazioni precise su quelli che saranno i comportamenti anche post-vaccinazione. Cioè non è detto liberi tutti, sono tranquillo, eccetera. Non è che automaticamente si abbia un patentino, perché dipende dal contesto nel quale ci si trova. Prima che si raggiunga la... Come si dice? L'immunità di gregge, ce ne vuole tantissimo. L'immunità di gregge dovrà passare molto tempo. Quindi saremo chiamati a convivere con il virus ancora molto a lungo. Quindi il senso di responsabilità e di attenzione non ce lo possiamo togliere, non ce lo esime nessuno. Un'altra cosa che volevo dire, velocemente, sempre legata ai vaccini, è che noi abbiamo chiesto che vengono vaccinate anche prioritariamente le assistenti familiari. Assolutamente le badanti, che dir si voglia. Accanto, insomma, agli anziani che sono a casa, noi pensiamo che ci siano anche loro che alla pari degli operatori sociosanitari nelle case dei posti, negli ospedali, hanno cura. È un rapporto molto stretto, un rapporto, un contatto molto stretto con i nostri anziani e quindi sia importante anche che anche loro vengono ricomprese nella campagna di pensionazione. Dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo e diamo la parola anche a Treviso. Ringraziamo il nostro telespettatore, in buona sostanza lei ha già contratto il virus, per cui magari si informi del suo medico se magari ha un periodo almeno limitato, un po' più di immunità rispetto ad altri, può anche essere, però tanto la mascherina e le attenzioni sempre anche vaccinati bisogna averle. Ci sono diversi articoli anche di esperti che attestano questo, fino alla famosa immunità di Greggia, quindi ce ne vuole un bel po'. Pubblicità, tra poco ci ritroviamo. Pubblicità, tra poco ci ritroviamo.